Mondo del benessere, mondo del fitness e le ripartenze, visto che siamo già alla fine dell'estate, già l'estate è finita e con noi abbiamo il nostro esperto di fitness, Nilo Ricciarini, il quale ha sempre detto è meglio non interrompere mai, però ora dobbiamo anche ripartire se si è interrotto l'attività fisica. Sì, non abbiamo mai interrotto perché nel mese di agosto le palestre sono aperte, però diciamo che dopo la riapertura delle scuole c'è stato veramente un boom, siamo noi contenti, stracontenti, dopo due anni di pandemia che siamo rimasti chiusi o perlomeno abbiamo lavorato con delle eliminazioni importanti, siamo ripartiti alla grande, ne siamo veramente felici, contenti, soddisfatti. Sì, le persone si sono rese, l'abbiamo ripetuto tante volte, ma durante il lockdown le persone si sono veramente resi conto, chi faceva della mancanza e chi non faceva dell'importanza di fare attività fisica. È migliorata la consapevolezza in tutti dell'importanza del fare movimento, questa è la cosa che ho notato in tutte le persone, consapevoli che hanno bisogno, che è necessità muoversi per la propria salute fisica e mentale, corpo sano e mente sana. Questo era il famoso detto. Le persone sono arrivate con tanto entusiasmo, addirittura guarda in dei casi bisogna anche frenarle perché si allenano tutti i giorni e il troppo non va bene. Assolutamente. Però devo dire che sono arrivate veramente con delle idee chiare, con degli obiettivi, molte persone. Anche c'è più informazione, no? C'è molta più informazione, c'è stato modo in questo lockdown, in questo periodo di chiusura di studiare, di capire, di vedere, di leggere. Certo. Cosa che facciamo noi italiani poco. Sì, va bene. Ecco, quindi di conseguenza sono arrivati veramente motivati e ci danno una soddisfazione incredibile perché vedere le persone che ci chiedono consigli, non solo sull'alimentazione ma sull'allenamento, su che tipo di allenamento è meglio per loro, abbiamo trovato veramente una cultura migliorata nel mondo dello sport. Anche perché ribadisco l'informazione, è importante la consapevolezza perché insomma stile di vita riguarda movimento e alimentazione, è un binomio che è imprescindibile l'uno dall'altro, no? Quindi poi le offerte sono tante nelle palestre, voglio dire, si va dal corpo libero, dalla sala di muscolazione, quindi esiste proprio un programma personalizzato per ogni persona, no? Posso dire questo Susanna, che la sala PESI ha sempre lavorato, sia dopo il Covid, sia nelle riaperture, bene o male è stata la prima attività a ripartire, ma la cosa che abbiamo notato noi addetti ai lavori è che sono ripartiti i corsi, quelli erano i corsi un attimino... Vabbè, sono stati quelli più penalizzati, no? Sono stati più penalizzati perché più di tante persone non si poteva partecipare, però adesso che non c'è più questa limitazione, devo dire che tanta gente ha ripreso questa attività, i corsi, e lì c'è la varietà massima, perché ho visto il corso di walking, la camminata sul tappeto meccanico... Sì, che abbiamo ora, ci sono anche le immagini che vedremo... Il group cycling, il vecchio spinning, che hanno ripreso in maniera incredibile, ma anche il settore aerobico, musicale... Certo! Il vecchio step, veramente, il vecchio step... Ecco, questo è il... vediamo le immagini... Questo è il walking, questo è il walking, la camminata di gruppo, fantastica, fantastica perché la chiamano brucia grassi questa attività, perché fa dimagrire in una maniera incredibile e lavora specialmente sulle gambe e sui glutei in maniera eccezionale... Sì, la camminata, la classica camminata... In salita, perché il tappeto è inclinato... Vabbè, però ognuno può modulare, no? Sì, poi ognuno può fare anche il proprio ritmo, il proprio passo, se in caso ce la fa... Però, guarda, visto che tutti nel lockdown sono andati a camminare fuori, ora si ritrovano a camminare sopra il tappeto e sono tutti super allenati... Mi immagino, poi oggi anche andare fuori a camminare con questi vari gruppi, no? Si passa una giornata fuori all'aperto... E' anche divertente... E' anche divertente, socializzante, perché anche la palestra non è soltanto vado lì e soffro, perché dai, Milo, la socializzazione è importante... Assolutamente, è importante la socializzazione, ma il famoso soffrire in palestra non è più il modo giusto per allenarsi, non è mai stato il modo giusto per allenarsi, non conta la quantità del lavoro che fa uno in palestra, ma conta la qualità. Ecco, e qui subentra l'esperienza e la capacità di tutti gli istruttori, la professionale degli istruttori, perché se io vedo che uno si allena tutti i giorni in maniera pazzesca, questo è una cosa controproducente, invece di migliorare si va a peggiorare, è meglio stare nel divano, veramente, guarda... Sì, perché poi veramente ci sono anche persone che non hanno capito che il riposo fisico è altrettanto importante come il movimento, no? Ricordiamoci che il recupero è importante quanto l'allenamento e quanto l'alimentazione. E ascoltare il nostro corpo, perché ci sono dei periodi in cui anche stare fermi a volte è meglio che andare in palestra, no? Sicuramente sì, ascoltarsi è fondamentale, ascoltarsi anche sull'alimentazione, ascoltarsi sull'allenamento, ascoltarsi sul recupero, sul recupero, io non mi stancherò mai di dire sì, ormai abbiamo capito come ci dobbiamo allenare, abbiamo capito come ci dobbiamo alimentare, però non abbiamo capito quanto ci dobbiamo riposare. E questo è fondamentale, perché è un triangolo che se io riesco a farlo bene ottengo il massimo da tutte e tre le caratteristiche. Se mi salta qualcosa non otterrò mai il massimo. Quindi personale specializzato, perché questo è fondamentale in tutti, la qualità del servizio deve essere sempre ottimale, quindi anche la scelta di una palestra poi ne lo va anche, cioè per noi che ci presentiamo deve essere anche presentato queste diciamo tipologie di cose, no? Guarda, la scelta della palestra non deve essere per il prezzo, o per l'offerta, o per lo sconto, o per il regalo, deve essere per la qualità, per il servizio che offre, questo è fondamentale. Noi affidiamo il nostro corpo a dei professionisti, questi professionisti devono essere preparati, lo vediamo subito se sono preparati, con la loro conoscenza, con il loro modo di fare, con il loro modo soprattutto di comunicare quello che sanno fare, sapere e saper fare. Il nostro tempo è scaduto Nilo, allora io ringrazio Nilo Ricciarini, esperto di fitness e questa ripartenza che dovrebbe essere una gioia per tutti perché voglio dire siamo stati chiusi in casa, adesso andiamo e facciamo un movimento. Ripartiamo a tutto gas.